Per ricevere le ricompense in ultima dal Premium Pool con il profitto DeFiU, devi trasferire i token Premium Split sul tuo portafoglio nella Smart Wallet. Non dimenticare di aggiornare il tuo portafoglio all'ultima versione e di attivarlo per effettuare transazioni con i token Split. Per attivarlo è sufficiente trasferire uno Smart sul tuo portafoglio. Ricorda inoltre che per prelevare i token è necessaria l'autenticazione a due fattori. Per prelevare i token Split, apri la dashboard sul sito DeFiU e seleziona Premium Split nell'angolo in alto a destra. In alto a sinistra vedrai il tuo saldo disponibile My Premium Split ed il pulsante Payout. Clicca su questo pulsante. Si aprirà una finestra in cui dovrai selezionare il saldo da prelevare. Seleziona il saldo disponibile Premium Split e tocca su Next Step. Nella finestra che si apre dovrai incollare l'indirizzo del tuo portafoglio Premium Split nella colonna Wallet Address. Puoi copiare l'indirizzo su Smart Wallet. Incolla l'indirizzo copiato, specifica l'importo di Premium Split a prelevare nella colonna accanto all'indirizzo e premi il pulsante Transfer. Si aprirà una finestra in cui dovrai inserire un codice di autenticazione a due fattori. Apri l'app Google Authenticator e inserisci il codice mostrato nell'app nel campo corrispondente. Se hai fatto tutto correttamente vedrai un messaggio che indica che è stata creata una richiesta di prelievo del token. Presto i token verranno trasferiti sul tuo portafoglio che hai specificato. Puoi trovare la cronologia dei payout nella sezione Payout History. Per qualsiasi domanda contatta il servizio di assistenza e saremo lieti di aiutarti.